Coppa del Mondo si parte, il tempo di sistemare gli ultimi dettagli e la 27esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile comincerà venerdì in grande stile. La Fondazione Cortina 2021 ha eseguito il sopralluogo per la tracciatura lungo l'Olimpia delle Tofane assieme ai tecnici della Federazione Internazionale dello Ski. Nonostante il vento e l'assenza di neve fresca abbiano complicato un po' le cose, ha fatto sapere Alberto Ghezze dalla Fondazione, gli operai hanno lavorato bene e tutto è pronto per l'evento. E i numeri parlano chiaro, 80 lavoratori specializzati che hanno posizionato 2500 metri di rete da 4 metri, 5 chilometri e mezzo di reti alte 2 e 512 materassi ad aria. 60 lisciatori avranno cura di perfezionare la pista la cui neve è stata creata con 25 cannoni. A Rumerlo la zona d'arrivo dove è stata posizionata una tribuna per mille tifosi. Nel frattempo sono state eseguite le prove cronometrate. La prima discesa libera è prevista per venerdì alle 12, mentre la seconda sabato alle 10.30. Il Super G conclusivo vedrà le atlete impegnate domenica alle 11.15. Venerdì l'accesso alle gare sarà gratuito, mentre sabato e domenica il costo del biglietto varierà da 12 a 25 euro. E nell'ambito della manifestazione sportiva nasce anche un laboratorio di idee. La Fondazione Cortina 2021 e Dolomiti Superski si sono legate a corda doppia facendo sorgere casa Dolomiti Superski. Nei giorni della Coppa e il Caminetto di Rumerlo ospiterà dibattiti e incontri su attualità, sport e sostenibilità. Nella giornata di mercoledì, intanto, Cortina ha avuto una gradita ospite. Lince Yvonne, in una conferenza stampa, ha confermato che questa sarà la sua ultima gara sull'Olimpia delle Tofane. Ha rimarcato inoltre il suo amore per Cortina, raccontando il suo primo podio ottenuto proprio nella regina delle Dolomiti ed emozionandosi nell'evocare il paesaggio illuminato dall'alba tra le montagne prima di ogni gara. E la campionessa statunitense non ha mancato di esprimere la propria stima nei confronti di Sofia Goggia. Questo sport ha bisogno di persone come lei, ha detto, divertenti e un po' fuori dagli schemi.